Oh, 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 che cavolo è quello? Che cavolo è quello? Torna indietro! Che diavolo è? No, non mi sembra amichevole! No! Scappa! No, no, non chiudo le porte in faccia! Chiudile te! Merda! Oh, merda, merda, merda! Dietro! Non lo so! Ok, ha detto di stare fermi! Merda! Corri, apri, apri! Oh, cazzo, siamo chiusi! No, 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 no! È stato un piacere! No, 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 no! Dannazione, dannazione! Siamo fottuti, no! Ok, è tempo di fare lo psicopatico! No, adesso è tempo di fare lo psicopatico! Ok! Ok, diventa Jack Nicholson! Diventa Jack Nicholson! Non lo so, siete voi che vedete! Io ho deciso così, di voler fare i cani per dividere lo psicopatico! C'è nessuno qui! C'è il mio cibo qui! Il mio piccolo cibo! Uh, vedo del cibo! Vienite qui da paparino! Eh, cosa fate? Mi sparate! Il mio padrone mi ha insegnato a giocare con il cibo! Quindi giocherò con il cibo! Vieni qui! Vieni! Vieni, Umi! Vieni da papà! Mmm, vieni! Oh, Umi! Umi! Oh, mi vieni qui da me! Dai, sei il mio gioco preferito! Il mio padrone mi ha insegnato molto a giocare con il cibo prima di mangiarlo! Quindi corri! Corri, Umi! Corri! Mmm, adoro l'odore del sudore di una persona mentre fugge! Vieni qui! Vieni qui! Oh, così fuggi via! Per favore! Non ti vergogno a fuggire! Non ti vergogni! Eh? Oh! Non farlo aiuto! Così... Buono! Ehi, buono! Mmm! Sento del cibo! Ciao! Come stai? Vieni qua! Oh! Peccato! Non ho potuto giocare così tanto con te! Però... Magari posso giocare con i tuoi compagni! Qualcuno può aprirmi per piacere? Sono senza... Tessere! Potete aprirmi per piacere? Oh! Oh! Grazie mille! Grazie! Grazie! Oh! Siete intrappolati con me! Ora... Cosa volete fare? Mmm! Buono il cibo! Buono il cibo! Vieni qua! È buono il cibo! Soprattutto quando si ribella! Vieni qua! Vieni qua! Mmm! 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 È lei, eh! Ok! Ora... Signor... Altro collega, può aprirmi? Prego! Grazie mille! Sì! Oh! Salve! Oh! Mi dispiace! Eri nella mia traiettoria! Avevo sentito che da queste parti c'era qualcuno! Signora macchina, può aprirmi l'intercom? Merda! Sa! C'è del cibo che mi aspetta! Oh! Signor tizio dentro questa posto! Sto per venirla a prendere! Borg! Oh! Signore! Sto arrivando! Dove si trova? Salve! Gnam! Gnam! Vieni qua! Ah! Ehi! Ehi! Cosa fai? Cosa fai? Oh! Grazie mille per aver chiuso la porta! Salve, signor Crazy! Ora devo cercare quell'altra persona! Chissà dove è finito! Non vedo altra gente rimanente qui in giro! Aspetta! C'è... SCP... Sento qualcuno! Cosa ci sta uccidendo? No! Che è stato? Ah! Ok! Ci hai pensato te! Ci stavo per arrivare! Oh! Le porte chiuse! Grazie mille! Oh! Salve! Gnam gnam! Che bello! Gnam gnam! Ehi! Vieni qua! Vieni qua! Ehi! Oh! E' divertente giocare con il cibo! E' divertente! Ehi! No! Questo gate è chiuso! Ma sento... Sì! Aiutatemi! Aiutatemi da questa parte! Ci stanno prendendo i cani! Aiuto! Che cosa è stato? Ragazzi sono di nuovo al gate B! Sono scesi e... Sono al gate B! Ah! Per piacere aiuto! Mi stanno prendendo! Grazie mille signore! E' stato un piacere conoscerla! Oh! E' bello fare affari con lei! Vedo tanto movimento in questo momento! Sì! Vedo movimento! Stanno arrivando tutti verso le gate A! Se avete voglia di venire a trovarsi! Dopo che li ho scacciati dal B sono andati alla A! Chiaro! Stanno arrivando... Stanno arrivando... Salve e benvenuti alla festa ragazzi! E' stato bello conoscervi! Ma ora dovrei morire... Oh! Ti hanno lasciato indietro! Ti hanno lasciato indietro! Mi dispiace! Oh! Intanto ti ringrazio signor... Oh! Guarda ho ammazzato poche persone! Ringrazio signor computer per aver chiuso queste bellissime entrate! Sì niente! Dovere signore! E' bello fare affari con lei! Ok! Credo che stiano ritornando di nuovo nel gate B! Ma non so se scenderanno ancora! Comunque è qua accanto tipo il gate B! Sì! Molto accanto! Il bello di fare avanti e indietro! Qualche passeggiata per togliere le calorie del cibo appena assorbito! Buongiorno! Ah no! Non c'è nessuno qui! Ehi! Ho visto una persona da questa parte! Ho visto una persona! Stava fuggendo via! Sai che ti ho visto vero? Non puoi sfuggire! Al gate A non c'è nessuno! Qualcuno è rimasto qui! Sotto con noi! Dividiamoci e cerchiamolo! Dai! Magari te vai e cerchiamo! Magari tipo qualche di voi se stanno giù! Io invece adesso ho qua per gli amicai! Vediamo se qualcuno è qua sotto a fare qualche comunicazione importante! Mmm! Nessuno che fa comunicazioni importanti! Peccato! Mi mancava le voci di queste persone! È così dolce prima di mangiarle! Checkpoint! Ehi! Ho trovato il cibo! L'ho trovato ragazzi! L'ho trovato! Cibo! Oh! Ciao! Oh! Ho trovato un altro cibo! Ciao! Cibo! Vieni qua! Cibo! Vieni qua! Oh! Vieni! Vieni! Oh! Cosa fate? Mi chiudete fuori! Eh? Mi chiudete fuori! Oh! Vieni qua! Dannazione! No! Dannazione! Era il mio cibo preferito! Devo tornare su! Devo prenderlo! Uno però! Ne ho mostro uno però! Salve! Mh! 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 Non ci credo! Sono affegato! Salve! Venga qui! Venga qui! Vedo troppo movimento da quella parte! Sì! Infatti mi sa che ci conviene da me! Torniamo indietro! Vedo troppo movimento! Oh! Cibo nell'ascensore! Salve! Dove pensa di andare signore? Ehi! Ah! Dannazione! Più sparate! Più mi arrabbio! Dove pensi di andare te? Mh? Dove pensi di andare? Mi hai riempito di proiettili! Ora devo venire io da te! Dove pensi di andare eh? Dove pensi di andare? Cacchio! Ho mancato quell'altra persona così! E vabbè! Loro se ne stanno scappando tutti! Lasciamolo! Lasciamoli che scappino! Lasciamoli che scappino! E la zona di estrazione! E ho bloccato tutti al gate B! Signori! Ok! Allora al gate B! Andiamo! Aspetta! Andiamo dall'ascensore! Non si rascetteranno mai! È vero! Non si rascetteranno mai! Sono ottono le persone! Arriviamo! Dacci soltanto il tempo di arrivare all'ascensore! E arrivare alle spalle! Vedo un movimento! Circa... Uno, due, tre, quattro persone! Ah! Mi serve un medico! Non riuscire a tenerli a molto! Ok! Allora ci allontaniamo! Questi ci stanno sparando troppo! Ci tengono la loro vita! Tanto noi dobbiamo andare giù a fare... Già! Un banchetto! Vai! Andiamo! Ok! Andiamo a fare un bel banchetto! Stiamo arrivando al bel banchetto! Che sta succedendo? Oh no! Cacchio! Ah! È già stato aperto! Quindi vuol dire che sono da qualche parte qui in giro! Cosa sta succedendo? Ehi! Cosa fate? Ehi! Cosa fate ragazzi? Cosa fa... Ehi! Cosa? Hai trovato la nuova? Vieni qua! Vieni qua! No! È mio fratello! Mio fratello! Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto mio fratello? Cosa hai fatto? Hai ucciso mio fratello? Hai ucciso mio fratello? Tu! Maledetto! Vieni qui! Non ti faccio nulla! Non ti faccio nulla! Non ti preoccupare! Voglio solo farti a pezzi! Oh! Vendicato un fratello in meno ma anche uno di voi! I miei fratelli! I miei poveri fratelli! Sono morti! Voi! Creature orribili! Ora mi avete fatto incazzare! Ora io vi osservo! Vi cercherò tutti! Vi mangerò tutti! Se mi sentite! Io vi mangerò dal primo all'ultimo! Finché non morirò anch'io! Ma ve ne porterò tutti all'inferno! O qualsiasi cosa voi crediate! Oh! Eccomi qua! Avete manzato i miei fratelli! Ma io mangio voi adesso! Io mangio voi! Venite qua! Venite qua! Venite qua! Cacchio! È stato divertente però! È stato divertente! È la granata! È stato divertente! È stato divertente! Sì! È stato divertente! È stato divertente! E questo è einfach! Non va più divertente! Bene! È l'alba! Con no! È un reg league! È un reglorio! È un reg volante! È questo genere! È un regolo! È un regolo rock! È un regolo!